se ti senti vuoto se ti sembra di essere più irritabile del solito e non ti senti più attivo come prima forse stai sperimentando un abbassamento del tuo tono dell'umore e questo video potrebbe esserti di aiuto ciao sono patrizia pietropaolo psicologo psicoterapeuta e life coach oggi ti dirò cosa puoi fare se ti stai accorgendo di non riuscire più a gioire delle tue esperienze e dei tuoi affetti come sempre è stato mentre la tristezza è un'emozione e come tale ci fornisce informazioni importanti sulla nostra vita sui nostri bisogni o su qualcosa che può essere dannoso per noi la depressione comporta un serio abbassamento del tono dell'umore accompagnato da modificazioni fisiologiche e cognitive che incidono pesantemente sulla capacità di funzionamento della persona in tutti i suoi ambiti di vita la depressione è una condizione patologica molto complessa e sono necessari dei precisi requisiti per stabilire se si è o non si è depressi come l'umore depresso per la maggior parte del giorno per esempio quasi tutti i giorni ho una marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte o quasi le attività che si svolgevano normalmente non vado oltre nell'elencare sintomi perché solo un professionista come uno psicoterapeuta uno psichiatra è in grado di fare una corretta diagnosi di depressione distinguo le diverse forme e assegnare la cura o le cure più corrette quando infatti i sintomi della depressione sono molto intensi è necessario un intervento clinico sia ricorrendo a una cura farmacologica somministrata da un medico sia ricorrendo alla psicoterapia a mio avviso cognitivo comportamentale che in questo caso può rivelarsi utile per insegnare alla persona come gestire questa condizione di sofferenza indagare le cause e aiutare la ripresa del paziente spesso le due cure sono abbinate e somministrate contemporaneamente altre volte o solo la cura farmacologico sulla psicoterapia molto dipende anche dalla persona e dal grado di intensità della malattia bisogna poi anche tenere conto della situazione generale del paziente se sono presenti per esempio altre malattie a complicare il quadro clinico e molto anche conta l'ambiente in cui vive chi ne soffre il supporto o sostegno che riesce a ricevere perché vivere a stretto contatto con una persona depressa non è semplice i familiari possono trovarsi spesso in difficoltà e non sapere come affrontare le situazioni o essere frustrati da inutili e ripetuti tentativi di spronare il congiunto ottenendo peraltro l'effetto contrario perché la persona depressa reagisce male a questi tentativi di incoraggiamento sentendosi impotente anche se non ha alcuna colpa dello stato in cui versa ma veniamo adesso ad un punto cruciale c'è qualcosa che può essere fatto quando la depressione non è ancora così grave quando si ha ancora voglia di stare meglio certo che sì per esempio quando l'umore peggiora in risposta a qualche vento di vita che destabilizza perché viene vissuto dalla persona con molto stress oppure ancora quando questo abbassamento dell'umore ci sta segnalando che nella nostra vita qualcosa non va nella direzione che avremmo voluto e ci sentiamo intrappolati con l'idea di non poter fare molto ecco se prendiamo l'abitudine di auto osservarci per arrivare ad essere consapevoli di ciò che proviamo se intercettiamo questi sintomi prima che crescano come una valanga rinforzandosi a vicenda è possibile intervenire correggendo alcuni comportamenti ed ecco i miei consigli la prima cosa da fare importantissima è rimanere attivo cerca di non smettere di fare quelle cose che di solito ti facevano stare bene e meglio non lasciarti andare anche se ti sembra di doverti sforzare molto di più per fare le stesse cose di prima o ti sembra di avere molte meno energie il mio secondo consiglio è di fare in modo che la tua vita sia sempre impostata su ritmi regolari per esempio poni particolare attenzione ai ritmi di sonno e veglia andando a dormire o svegliandoti sempre alla stessa ora chiediti anche cosa è veramente significativo per te nella tua vita e lotta per questo qual è lo scopo della tua vita dai un nome ai tuoi valori quali sono adotta poi dei comportamenti che vanno in questa direzione per esempio se per te la famiglia è importante farei di tutto per non far sentire i tuoi cari trascurati a causa del tuo malumore oppure se per te l'amicizia conta molto cercherai di non smettere di frequentare i tuoi amici fa che i tuoi valori ti motivino il più possibile il mio quinto consiglio poi è questo quello di prenderti cura di te stesso al meglio che puoi anche mangiando bene in modo sano e variando la tua dieta il più possibile infine il mio ultimo consiglio il sesto un modo eccezionale per prenderti cura di te te stesso sappi che l'esercizio fisico magari anche poco ma spesso non puoi immaginare quanto benessere può procurarti non ho mai affrontato con voi questi ultimi due punti l'alimentazione l'esercizio fisico ci tornerò sicuramente perché per me sono fondamentali non ci si può occupare solo della nostra mente dei nostri pensieri emozioni e sentimenti se non ci prendiamo cura del nostro corpo perché in fin dei conti è con le nostre gambe che noi andiamo in giro per il mondo adesso che ti ho lasciato i miei consigli vorrei spezzare una lancia a favore di tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile nella loro vita idealmente vorrei abbracciarle con un abbraccio che sia di comprensione affetto e pazienza io capisco tutti chi soffre e chi è vicino alla persona sofferente solo chi soffre di depressione può conoscere fino in fondo il barato la sofferenza o l'angoscia che è possibile provare credo che ci siano anche delle associazioni di ascolto e sostegno per i familiari di queste persone nelle grandi città e sarà facile trovarle su internet ma ormai è tutto online e non importa se vivete in un piccolo centro chiedete aiuto anche voi se non sapete più cosa è giusto fare rischiando per esempio di adottare un comportamento sbagliato peggiorando la situazione della persona sofferente generando sconforto quando invece magari avreste solo voluto rassicurare il vostro caro cercando di spronarlo minimizzando la depressione è una malattia e chi ne ha affetto soffre molto purtroppo questa sofferenza è anche molto difficile da comunicare a chi sia vicino a volte anche per paura di non essere compresi ma spesso perché questa malattia genera vissuti di isolamento emotivo e affettivo che portano ad un senso di estranetà anche dalla stessa famiglia oltre che dal mondo e non dobbiamo mai dimenticarci che di questo si tratta di perdita di interesse verso la propria vita è una condizione di solitudine profonda la depressione ti toglie l'aria e ti fa percepire la vita come un cunicolo buio senza vie di uscita e senza alcuna speranza di poter stare meglio inizia col mettere in pratica i miei consigli e se questo video ti è stato di aiuto iscriviti al mio canale o lasciami un commento se vuoi condividere la tua esperienza con tutti noi o farci sapere cosa invece ti è d'aiuto per sentirti meglio vorrei essere lì con te e darti la mia mano vorrei essere vicino a tutti voi che state vivendo un momento difficile nella vostra vita attraversiamolo insieme questo tunnel sentite la mia presenza anche se ci sono altri che faranno il lavoro più pesante i vostri familiari e i vostri curanti ma io sono con voi e so cosa state passando un abbraccio a tutti e abbiate fiducia dopo ogni notte c'è sempre un sole che sorge e questo vi auguro di cuore di vedere finalmente la luce di un nuovo giorno ciao a presto